Mi chiamo Adam Obert, sono nato in Bratislava e questo è il mio secondo anno nella Sampdoria. Il calcio, per me diciamo tutto, subito come da piccolo giocavo calcio con il mio fratello vicino alla mia casa, ho iniziato a giocare calcio anche grazie a mio padre, anche lui c'era un calciatore. Giocavo in una squadra slovacca che si chiama Slovan-Bratislava, che è una squadra più forte in Slovacchia. Anche lui era tecnicamente bravo ma alla fine ha smesso di giocare e ora lavora come avvocato. Famiglia, comunque siamo tanti sportivi, anche mia mamma giocava a basket ma poi anche lei ha smesso di giocare e ora pure lei fa lavoro come avvocato. Poi ho anche uno fratello che si chiama Nino e anche lui giocava a calcio, una squadra cieca che si chiama Brof Cabernet. Quando il mio procuratore mi ha detto che Sammi vuole provare qua, eravamo con la mia famiglia in vacanza in Santa Margherita e era una cosa bellissima perché anche la mia famiglia amava sempre l'Italia e andavamo sempre lì. Poi l'anno scorso in luglio sono arrivato qua a fare provino e subito sono rimasto qua perché mi trovavo bene anche con i miei compagni che tutti erano bravi, mi aiutavano sempre. Non ho pensato che la mia famiglia sia così lontana da me ma volevo diventare come un calciatore quindi ho fatto tutto a dare massimo qua. L'anno scorso il campionato era molto difficile perché erano squadre diverse come quella dove prima giocavo, erano squadre più forti ma secondo me ho fatto bene anche perché il mister era bravo e mi aiutava sempre, mi dava consigli e così tutti abbiamo fatto bene e siamo arrivati in alto. Secondo me sono giocatore tecnicamente bravo, mi piace giocare con la palla anche se sono difensore centrale, mi piace anche fare dribbling anche se è rischioso per me ma poi sono alto, sono mancino quindi sono anche bravo col sinistro ma devo ancora lavorare di più col mio destro che non è il mio piede preferito. Sono molto felice di avere possibilità di allenarsi con la primavera, è una cosa sempre bella, è anche duro allenarsi con i più grandi ma a me piace lavorare quindi mi sono subito trovato bene nella squadra anche con i miei compagni pure con lo staff. Andre 18 è un campionato nuovo perché l'anno scorso anche tanti anni fa non c'era mai ma secondo me sarà un campionato duro perché ci sono tutte le squadre molto forti. E' il mio obiettivo personale per questa stagione è aiutare il più possibile per la mia squadra con la mia prestazione e con la voglia di non prendere mai gol. L'anno scorso sono andato a vedere la prima squadra allo stadio a Marassi contro la Fiorentina, era una cosa bellissima perché ho visto i giocatori in realtà come giocano e sempre di ciò che anche io voglio diventare così. Grazie a tutti.